Grazie a tutti. 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 Per fare l'abbonamento? Io sono venuta a 31 e non me l'hanno fatto l'abbonamento. L'unica cosa che stanno rispondere è che c'è un delirio, l'unica cosa è che c'è un computer solo. Io ho i fogli registrati, a me mi dovrebbero fare l'abbonamento e basta. Lei vede come sono in fila con gli altri. Anche voi siete in fila? A che ora siete arrivati? Due ore fa. Prima arrivava fino alle fermate la fila. E per ora non scorre? No, non si vede nulla ancora. Lei ha sia la registrazione, il vecchio abbonamento, però non è riuscita a farlo online? No, no. Perché i vecchi li hanno messi in condizioni che non sono più capaci di fare nulla. Da quanto tempo è in fila? Siamo zitti. D'Autolinea Toscane parlano di disagi inevitabili, ma che si dovranno affrontare una sola volta in 11 anni e che in prospettiva semplificheranno il servizio. Questo cambiamento inevitabilmente ci porta a dover fare delle registrazioni che noi cerchiamo di portare a fare più possibili registrazioni online, ma ovviamente c'è una parte dell'utenza che ancora ha necessità di venire di persona e il cambiamento è importante anche soltanto per avere le informazioni. Quindi è successo in passato in altri cambiamenti storici come carta mobile, come carta unica e ci saranno qualche giorno di disagio, ma siamo sicuri che a breve il problema si risolverà. A complicare il debutto di Autolinea Toscane, che rispetto a ieri doveva gestire pure il ritorno in classe degli studenti, ci si è messo pure il traffico che stamani ha completamente paralizzato la città, facendo saltare qualche corsa ai mezzi per poi tornare a effettuare il servizio in orario. La situazione è che stamattina siamo partiti normali, senza grosse problematiche, poi ci sono stati ora problematiche per motivi di traffico, di blocco del traffico, per cui diciamo che la situazione è normale, ma è tutti i giorni scolastici, precedente e subentro. Cosa è cambiato? Ci sono stati eventuali accorgimenti o tutto identico rispetto al passato? Per ora diciamo che il servizio è quello, le modalità sono quelle, lo sforzo attuale è di garantire un passaggio alle stesse condizioni. E restiamo in tema di mobilità. Traffico paralizzato in varie parti della città stamani all'ora di punta. Ad aggravare la situazione nella zona est è stato un incidente avvenuto stamani alle 8 in Viale Borgo-Valsugana. All'altezza del Copernico, un'auto proveniente da una strada laterale ha impattato un monociclo che percorreva il viale. Sul posto è intervenuta un'ambulanza che ha trasportato il ferito in codice giallo all'ospedale di Prato. Per i rilievi del caso e per gestire il traffico è intervenuta la Polizia Municipale, lunghe le code che si sono formate fino al Ponte Datini, dove la situazione del traffico era già critica per l'affluenza in città dei pendolari della Val Bisenzio e per i veicoli provenienti da Viale Galilei. Code si sono verificate anche attorno ai nodi di Piazza San Marco e Piazza Mercatale. E sulle pesanti code registrate stamani in città interviene la consigliera del Movimento 5 Stelle, Silvia Lavita, che segnala ad aver impiegato 60 minuti per percorrere 5 chilometri. Era tutto bloccato da Piazza San Marco a via Filzi. Non è una novità visto che ogni mattina è così, afferma Lavita. Cosa ancora più grave, un'ambulanza non riusciva nemmeno a passare dalla quantità di auto presenti e ferma in carreggiata, aggiunge l'esponente dei 5 Stelle, che punta il dito contro l'amministrazione comunale. Che fine al fatto il piano urbano di mobilità sostenibile, il sindaco Biffoni e l'assessore Leoni che cosa intendono fare, conclude Lavita. E voltiamo pagina per parlare di sanità. Non solo Covid, è in corso la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Sono circa 60.000 le dosi a disposizione per il territorio pratese, i particolari nel servizio di Marco Manzo. È partita il 25 ottobre la campagna antinfluenzale 2021-2022. I primi a ricevere il vaccino saranno i pazienti ultra settantenni con patologie. Poi via via toccherà tutti gli altri. Sul territorio pratese sono circa 60.000 le dosi previste a disposizione dalla prima decada di novembre. La campagna è partita proprio in questi giorni. Praticamente già dal 25 ottobre sono state distribuite le prime dosi. In particolare sono state distribuite quelle dosi di, diciamo, tetravalente adiuvato riservate alle persone over 70 e con patologie. A breve comunque andremo avanti. Saranno distribuite tutte le altre dosi. Nell'area fratese circa 60.000 saranno le dosi complessivamente distribuite. E questo avverrà nella prima settimana o al più tardi, entro i primi dieci giorni di novembre, la partenza vera e propria. La vaccinazione antinfluenzale è consigliata soprattutto per persone con patologie croniche o per 65 donne in gravidanza e su valutazione del pediatra ai bambini. Saranno direttamente medici di famiglia e pediatri a somministrare il vaccino. I medici di famiglia e pediatri ritirano il vaccino nella misura, diciamo, proporzionale ai loro assistiti appartenenti alle varie categorie target possano e devono ritirare il vaccino nelle farmacie da loro indicate. Quindi, diciamo, andranno nelle farmacie, ritirano il vaccino e poi effetturando la vaccinazione vera e propria all'interno degli euroambulatori. E parliamo adesso delle celebrazioni dedicate ai defunti di questi giorni. In occasione della Festa di Tutti i Santi, nel pomeriggio di ieri, il Vescovo Giovanni Nerbini ha presieduto la messa presso l'oratorio del Cimitero della Misericordia, a cui ha fatto seguito la benedizione delle tombe del primo recinto. Non si è tenuta dunque, per motivi legati alle norme anti-Covid, la tradizionale processione all'interno degli altri recinti. Oggi pomeriggio, invece, alle 15.30, Monsignor Nerbini sarà al Cimitero di Chiasa Nuova per il rito della benedizione, anche in questo caso senza processione. Parliamo adesso di teatro. Torna la rassegna a Met Ragazzi, il servizio di Silvia Fioravanti. La fase più acuta della pandemia ha portato via a bambini e ragazzi le occasioni di ritrovo, svago, crescita e istruzione. La scuola in presenza è stata senz'altro un punto importante del ritorno alla normalità, ma c'è un altro tipo di scuola che può ripartire quest'anno, la grande scuola del teatro. Al Teatro Magnolfi è stata presentata infatti la stagione 2021-2022 di Mette Ragazzi, rassegna del metastasio dedicata ai più giovani. C'è una grande voglia dei ragazzi di ritornare a vedere spettacoli in presenza. Credo che il metastasio, grazie a Edoardo Denatini, abbia fatto moltissimo durante la pandemia per mantenere vivo il rapporto con le scuole appunto attraverso l'online, ma siamo felicissimi di ripresentare una stagione ricca, varia e complessa come quella del teatro ragazzi. Accanto agli spettacoli di prosa ci sarà anche la danza, con la rassegna nella rassegna scherzosamente intitolata a mille piedi. Tornano anche gli spettacoli nei weekend di dicembre per Natale e teatro, una vera e propria festa del teatro per tutta la famiglia. Non mancheranno corsi e laboratori. Con il ciclo Le Arti, la scena, i ragazzi avranno l'occasione di sperimentare il teatro a stretto contatto con gli artisti. Mentre il Laboratorio delle Arti della Scena, arrivato alla sesta edizione, previsto da novembre 2021 a maggio 2022, proporrà un percorso teatrale per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Tra gli spettacoli in cartellone, particolare attenzione è rivolta ai grandi temi di oggi. Ad esempio l'ambiente, protagonista dello spettacolo Più Erba, la giungla in città, ideato in continuità con il progetto della città di Prato Urban Jungle, e il bullismo, con lo spettacolo Leone che striscia. Il Leone che striscia è uno degli esempi che da molti anni non vedevo, dove l'attore Giordana riesce a creare un dispositivo e mette l'intero pubblico nella posizione del vivere quello che è il meccanismo del bullismo. Per maggiori informazioni, potete consultare il programma sul sito metastasio.it o contattare direttamente il teatro. Fiocco Rosa in casa Pugelli. Alle ore 15 di ieri, festa di tutti i Santi, è nata Chiara, secondogenita del presidente della provincia di Prato e sindaco di Poggio a Caiano, Francesco Pugelli, e della moglie Francesca. Chiara è venuta alla luce all'ospedale Santo Stefano, pesa 3,4 kg e sta bene. È stato lo stesso Pugelli a darne notizia con un post sul suo profilo Facebook. A Pugelli e alla moglie Francesca vanno le congratulazioni di tutta TV Prato. E adesso è il momento delle previsioni meteorologiche, come sempre a cura del Consorzio Lama. Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo a cura del Consorzio Lama. Queste sono le ultime immagini che ci giungono da satellite, dalle quali possiamo vedere come la perturbazione che ci ha interessato nella giornata di ieri sia attualmente sui Balcani e si stia allontanando ulteriormente. Una nuova perturbazione, presente invece sulla penisola iberica, tenderà ad interessarci nella giornata di domani. Ma passiamo subito a vedere quindi la previsione per il pomeriggio di oggi. All'insegna di un cielo tra poco e parzialmente nuvoloso, non si esclude qualche roversio a carattere sparso, più probabile sulle zone interne e al ridosso dei rilievi appenninici. I venti saranno forti sul litorale settentrionale, sull'alpennino e in arcipelago saranno venti generalmente occidentali, quindi di libeccio, con mareggiate in particolare sul litorale centro-settentrionale. Per quanto riguarda le temperature, queste potranno subire un aumento nei valori massimi. La tendenza per la giornata di domani, in arrivo la nuova perturbazione, quindi in mattinata precipitazioni sulle zone di nord-ovest, le precipitazioni nel corso del pomeriggio potranno estendersi fino alla Toscana centrale. Domani i venti saranno moderati dai quadranti meridionali, i mari ancora molto mossi, i settori settentrionali in mattinata, ma la tendenza è verso mari mossi, un po' su tutto il litorale. Domani le temperature non subiranno variazioni di rilievo, se non un lieve calo nei valori massimi, specie laddove sono previste le precipitazioni. Con questo da Lama, per il momento è tutto. Bene, grazie a Lama per l'aggiornamento sul meteo, anche dalla nostra redazione per il momento è tutto, ma rimanete con noi, vi ricordiamo alle 17 in diretta dal Duomo di Prato, andrà in onda la recita del Rosario e a seguire la celebrazione della Santa Messa. L'informazione di TV Prato torna invece questa sera alle 20.30 con il Tg della Sera, ma intanto tutti gli aggiornamenti li trovate sul nostro nuovo sito web tvprato.it. Bene, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.